Il più bel momento a New York Quando arrivo a casa ci scrivo dentro nome e numero di telefono E domatina presto vado a venderlo a un negozio di libri usati Sei un delirio Oggi, dopo dieci anni Agli sposi E due fidanzamenti Dimmi qualcosa di romantico Tipo? Tipo che sono l'unica donna in tutto l'universo giusta per te Perché? Mettere a rischio il tuo rapporto con Ellie Soltanto per inseguire una chimera È passato tutto il viaggio a fissare il cielo e a pensare A quest'uomo del mistero che un milione e mezzo di ore fa ho incontrato Puoi inserire questo numero di conto nel computer e dirmi nome, cognome? Oh, certo Se la mette così è... No Non voglio saperne proprio niente Cerco l'indirizzo di Sara Thomas Cerco l'indirizzo di un certo Jonathan Traeger Deve essere qui, me lo sento Ah! Iva, attenta! Sto cercando Jonathan Traeger Mi pare un po' in ritardo In ritardo per cosa? Per le nozze Fermi! Non può finire così! John Cusack E la protagonista di Pearl Harbor Kate Beckinsale Serendipity E la protagonista di Pearl Harbor